C'è Massimo Pericolo in uno degli ultimi pezzi che dice per far questa cosa devi soffrire un po' è come un tatuaggio, devi stare un po' male per fare musica probabilmente, per fare rap. Sì, è una cosa che è abbastanza normale, cioè normale per chi la fa, poi per chi magari ne è fruitore un po' meno perché può non comprendere il concetto, però di base quando sei felice eccetera difficilmente ti viene da creare. Però la trap nel cliché è felice, soldi, fumo, donne. Sì, però spesso parte comunque da un disagio, anche se ne parli in una maniera, cioè tutti quelli che cominciano a fare questa roba dicono voglio fare i soldi, voglio che i miei fratelli facciano i soldi, però non è che li hanno, cioè vivono in una situazione di disagio lo stesso.